Questa operazione testimonia l'importanza che l'Arma dei Carabinieri dedica al quartiere San Basilio, nota piazza di spaccio in ambito europeo, già oggetto di numerose indagini da parte dell'Arma dei Carabinieri. Il metodo della consegna a domicilio sviluppato durante le fasi della pandemia si dimostra ancora ad oggi un metodo vincente attuato in sostituzione di quello che era il metodo utilizzato per le piazze di spaccio. Il metodo di consegna avveniva anche mediante l'utilizzo di un taxi da parte di uno degli soggetti indagati. Gli indagati, per fidelizzare i propri acquirenti, mandavano dei messaggi social contenenti le offerte riguardanti lo stupefacente.